quando il capitano Hector Marie de Fontaine sposò la signorina Laurine d'Estelle i parenti e gli amici pensarono che era un matrimonio mal combinato la signorina Laurine graziosa sottile fragile bionda e ardita aveva sin dall'età di 12 anni la sicurezza di una donna di 30 era una di quelle piccole parigine precoci che sembrano nate con l'esperienza della vita con tutte le astuzie della donna con tutti i pensieri più audaci con quella profonda scaltrezza e quell'agilità di spirito che fanno sì che certe persone appaiono fatalmente destinate qualunque cosa facciano a prendere in giro e a ingannare gli altri tutti i loro atti sembrano premeditati tutti i loro passi calcolati tutte le loro parole accuratamente pesate la loro vita non è che una parte recitata di fronte ai loro simili era anche bella sempre in vena di ridere tanto da non sapersi trattenere né mitigare quando una cosa le pareva divertente e buffa rideva sul naso delle persone nel modo più imprudente ma con tanta grazia che nessuno mai se ne offendeva era ricca molto ricca un prete fece da intermediario per farlo esposare il capitano de fontaine educato in una famiglia religiosa nel modo più austero quest'ufficiale aveva portato nel reggimento abitudini da chiostro principi rigidissimi e un'assoluta intolleranza era uno di quegli uomini che diventavano infallibilmente o santi o nichilisti in cui le idee sono padrone assolute la cui fedeltà è inflessibile e le decisioni irrevocabili era un giovane alto bruno serio severo ingenuo di mente semplice ristretta e ostinata uno di quegli uomini che passano nella vita senza mai comprendere quello che c'è sotto la superficie le sfumature le sottigliezze che non indovinano nulla non sospettano nulla e non ammettono che si pensi si giudichi si creda e si agisca diversamente da loro la signorina laurin lo vide comprese subito il suo carattere e lo accettò per marito fu un ottimo matrimonio lei fuabile accorta e saggia perché sape mostrarsi come doveva essere sempre pronta a far opere buone e a partecipare alle feste assidua in chiesa come a teatro mondana e austera con una lieve aria d'ironia con una piccola luce negli occhi quando parlava gravemente col suo grave sposo gli raccontava le sue opere benefiche con tutti gli amati della parrocchia e dei dintorni e approfittava di quelle misericordiose occupazioni per star fuori di casa dalla mattina alla sera ma qualche volta sul più bello del racconto di qualche atto caritatevole era assalita improvvisamente da un riso folle un riso nervoso impossibile a riprimere il capitano rimaneva sorpreso inquieto un po offeso dinanzi alla moglie soffocata dalle risa quando si calmava un po e gli redomandava ma che hai laurin la moglie rispondeva nulla mi è tornata in mente una curiosa faccenda che mi è capitata e raccontava una storia qualunque nell'estate del 1883 il capitano de fontaine prese parte a una delle grandi manovre del trentaduesimo corpo d'armata una sera essendo accampati nelle vicinanze di una città dopo dieci giorni di tenda e di manovre dieci giorni di fatica di privazioni i camerati del capitano decisero di fare un buon pranzo il capitano de fontaine dapprima rifiutò di accompagnarli poi dato che il suo rifiuto sorprendeva i compagni a consentì il suo vicino di tavola il comandante de fiavret sempre parlando di operazioni militari l'unica cosa che appassionasse il capitano gli versava continuamente da bere un bicchiere dopo l'altro aveva fatto molto caldo durante il giorno un caldo pesante soffocante che congestionava il capitano beveva senza pensare senza accorgersi che a poco a poco gli entrava in corpo un'allegria nuova una certa gioia viva ardente una felicità piena di desideri risvegliati di appetiti sconosciuti d'attese confuse alla frutta era brillo parlava rideva s'agitava preso da un'ubriachezza rumorosa un'ebbrezza folle d'uomo solitamente serio e tranquillo fu proposto di finire la serata a teatro lui accompagnò gli amici uno di essi riconobbe un'attriccia che un tempo aveva amata e fu allestita a una cena a cui parteciparono alcune attrici della compagnia il capitano l'indomani si svegliò in una camera sconosciuta e fra le braccia di una donnina bionda che gli disse vedendola aprirgli occhi buongiorno caro gattone da prima non comprese poi a poco a poco si ricordò d'ogni cosa sebbene un po' confusamente s'alzò allora senza dir parola si vestì e vuotò il portafoglio sul caminetto quando si trovò in piedi in divisa con la sciabola al fianco in quella camera immobiliata dalle tende gualcite con un divano costellato di macchie dall'origine sospetta fu preso da una gran vergogna e non osava andarsene scendere le scale dove avrebbe incontrato gente passare davanti alla portinaia e soprattutto uscire sulla via sotto gli occhi dei passanti e dei vicini la donna continuava a ripetere che ti ha preso hai perduto la lingua eppure ce l'avevi ieri sera che stupido lui la salutò cerimoniosamente si decise ad andarsene e raggiunse il suo domicilio a lunghi passi persuaso che dalle sue maniere dalla sua divisa dal suo viso la gente indovinasse che usciva dalla camera di una donna il rimorso l'attanagliò un rimorso spossante di uomo rigido e scrupoloso si confessò si comunicò ma si sentiva a disagio seguito sempre dal ricordo della sua colpa e dal pensiero di un debito sacro contratto verso la moglie non la rivide che dopo un mese poiché lei aveva passato presso i genitori il tempo delle manovre laurì gli andò incontro a braccia aperte e sorriso sulle labbra il capitano la ricevette con un'aria impacciata di colpevole e fino a sera cercò di non parlarle quando si trovarono soli lei gli chiese che hai caro ti trovo molto cambiato con tono impacciato rispose non ho niente cara proprio niente scusa ti conosco bene e sono sicura che hai qualcosa una preoccupazione un dispiacere una seccatura che so io ebbene sì ho una preoccupazione ah quale mi è impossibile dirtela a me perché mi metti in agitazione non ho nessuna ragione da darti ma è impossibile dirtela lei sarà seduta su un piccolo divano a due posti e lui passeggiava in lungo in largo con le mani dietro la schiena evitando di incontrare lo sguardo della moglie lei riprese via bisogna che ti faccia confessare è mio dovere e devo esigere da te la verità è un mio diritto non puoi avere segreti per me come non posso averne io per te il marito vicino all'altra finestra e sempre voltando le spalle rispose cara ci sono cose che è meglio non dire quello che mi tormenta è di questa specie laurin salzò attraverso la camera lo prese per le braccia e obbligandolo a voltarsi gli posò le mani sulle spalle poi sorridente carezzevola con gli occhi alzati disse su marì nei momenti di tenerezza lei lo chiamava marì non puoi nascondermi nulla potrei credere che tu abbia fatto qualcosa di male lui mormorò ho fatto una cosa bruttissima la moglie replicò gaiamente tanto brutta mi sorprende molto il marito rispose con decisione non ti dirò nulla è inutile insistere ma laurin lo trasse vicino alla poltrona lo obbligò a sedersi si sedette anche lei sulla sua destra baciandogli con un bacio lieve fuggevole alato la punta arricciata dei baffi riprese se non mi dici nulla saremo per sempre in collera egli straziato dal rimorso e oppresso dall'angoscia morborò se ti dicessi quello che ho fatto non mi perdoneresti mai tutt'altro caro ti perdonerai subito no è impossibile te lo prometto ti dico che è impossibile giuro di perdonarti no caro laurin non lo potresti sei inzenuo caro per non dire sciocco rifiutando di dirmi ciò che hai fatto mi credere cose orribili io ci penserai sempre e mi irritarai del tuo silenzio quanto del tuo misfatto sconosciuto mentre se tu parlassi schiattamente domani me ne sarai bella e scordata e che che il capitano arrossì fino alle orecchie e con voce grave mi confesso a te come mi confesserai a un prete laurin sulle labbra di lei passò quel rapido sorriso che aveva spesso ascoltando e con un tono un po burlesco sono tutto orecchi lui riprese tu sai cara che sono a stemio non bevo che acqua appena colorata e mai li cuori lo sai sì lo so ebbene pensa che verso la fine delle grandi manovre mi sono lasciato andare a bere un po una sera trovandomi accaldato stanchissimo e ti sei ubriacato perbacco che vergogna sì mi sono ubriacato lei aveva assunto un'aria severa ma ubriaco interamente confessa ubriaco da non poter camminare di oh no così avevo perso la ragione ma non l'equilibrio parlavo ridevo ero come pazzo e di tacque e allora la moglie chiese è tutto qui no e dopo dopo ho commesso un'infamia laurin lo guardò inquieta un po turbata commossa anche che cosa caro abbiamo cenato con con alcuni amici e non so come è avvenuto ti ho tradito laurin lui aveva detto questo in tono grave solenne lei si scosse e il suo occhio si illuminò d'una improvvisa allegria d'un'allegria profonda irresistibile disse tu tu mi hai e un riso secco nervoso rotto le troncò per tre volte la parola laurin cercava di riprendere la sua serietà ma ogni volta che stava per pronunciare una parola il riso le gorgogliava in fondo alla gola zampillava e benché cercasse di ricacciarlo dentro esso ritornava sempre come il gas di una bottiglia di champagne sturata di cui non si possa trattenere la schiuma la donna teneva le mani sulla bocca per calmarsi per ricacciare in gola quel malaugurato impeto di allegria ma la soffocavano lunghi accessi di riso simili a quelli della tosse convulsa ogni sforzo fatto per calmarsi provocava un nuovo accesso ogni parole che cercava di pronunciare la faceva ridere più forte po povero amico il marito si alzò lasciandola sola sulla poltrona e diventando improvvisamente pallidissimo disse laurin sei indecente e lei balbettando in un delirio d'allegria che vuoi io io non posso ecco come sei buffo lui fattosi livido la guardava adesso con occhi fissi in cui ci destava un pensiero strano da un tratto aprì la bocca per gridare qualcosa ma non disse niente dirò sui tacchi e uscì sbattendo la porta laurin piegata in due svinita prossima a svenire rideva ancora ad un riso morente che si rianimava a tratti come la fiamma di un incendio quasi spento grazie a tutti